ma di giustristi apparello no l'arma 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 cazzo l'arma porco disco ci ho lasciato l'arma lì dentro sono un coglione sono un coglione per fantasmarmi ma vaffanmoc stavo sfaccando la lobby la rompevo veramente cazzo si ma cazzo ma nei tre che cazzo abbiamo fatto si l'accompagnamento non ha niente ha fatto una strada vedrai che nelle prossime ti arrangi le ho esplosi tutti nelle prossime lobby ti arrangi restati da solo cazzo le ho sfondate ormai la cosa la Volkswagen quella che ho fatto che non è abbastante di la rossa ma quella azzurra e io cazzo impegnandomi a farvi rinascere adesso ho attaccato al cazzo hehehe allenatevi finché potete tra poco entrerete in canto vabbè dai due partite 25 kg ho fatto not bad not bad questo è il mio primo record personale 16 kg era 13 fino all'altro ieri addirittura si te lo giuro 16 mai fatte in vita mia ne avevo fatte 12 13 però in BR in singolo BR non basta allenarsi affronterete dei veri nemici fai fatto la cosa? si si l'ho fatta si l'ho fatta si l'ho fatta dai 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 iiagar star aientrando ? stai tremando pure con la voce visto cosa ho fatto ero tutto bagnato ero empawerato andiamo di nuovo in quella casetta faccio 6 a 7 team lì dentro non lo vedo quanta gente c'è allora aspetta e noi non arriviamo per lui capito? no, craccatissimo questo ahia, questo è molto malissimo ah si, oggi, ora si, ora si è vero con la pistoletta che palla se entrate niente, las... dove stiamo, cazzo, ancora tutti lì? si, stanno tutti lì 2 a terra vai 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 no 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 2 a terra, è un 21 alessandra, è un 21 alessandra e su, conlezionarmi quello è lì lì ho messo 2 a terra da Francia ma dov'è, Pauro? a terra 1, sempre lì al terzo piano lo sta lessando lo sta lessando vaffanculo va ma si ah lo stava coprendo un attimo fare due sopra nave ne avete due sopra devo fare un gesto scaramantico per togliermi ma l'occhio ah cazzo l'ho mancato per un pelo quel bastardo fatta lo riprendi fatto no è stato piaciuto? ma vaffanculo erano in due oddio scappo 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 no scherzavo scherzavo prendiamo andiamo ad arboro che brutte ste cose sono tutte le due con la pistoletta arriviamo mauro non lo sento non lo sento mauro minchia cos'è? c'è gente se lo sei scopato mori ce ne ho un altro però devo andare a prendere lodi ah no c'è gente c'è gente è pieno ci vuole ci vuole cazzo che stanno venendo a fare raga? perché scendete la ragazzi? ah no perché ho detto diamoci una mano a mano c'è chi no la finestra c'è chi no la finestra che cazzo dici no 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 eh volevo prendere il loadout ma adesso guarda aspetta che c'è gente qua sei te il beigas qua si sono io sono io allora prenditelo il loadout è sicuro no non sei te mannaggia la puttana ce ne sono due te ma te sono io ero sotto è uno a terra è uno a terra lo sta arrestando lui scendi 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 a terra grande bravissimo è bravissimo lui bravo 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 ma non ti credo cazzo ne hai fatti te lo fai te lo fai te lo fai te lo fai colpetto grande grandissimo con la pistoletta tu cazzo super raga oh ce n'è uno qua sopra dal ponticello per andare dall'alto eccolo qua casamuni Luca 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 uno dietro ce n'è sceso uno dietro eccolo cazzo cazzo è pieno dietro a terra fatto uno due mauro due di fronte arrivo vogliono prenderlo d'auto vogliono prenderlo d'auto vogliono prenderlo d'auto tene uno vicino no l'abbiamo dov'è la cassa è pieno è pieno è pieno la cassa mi serve è pieno dire lo spesso il bravo bravissimo ha fatto uno qua dietro un altro un altro un flyer un flyer ragazzi scusatevi datemi i soldi ragazzi mi servono piastre ragazzi sono due sono due qua qua dal ponticello qua dove va attenzione l'altro luca non devi dire qua qua eh lì dal ponticello l'abbiamo pingato a terra uno dove dove ci vado io fatto 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 l'ho fatto c'è un altro qua dalla corda c'è uno che sta tirando sopra di noi dal tetto no no l'ho qui l'abbiamo eh sono tre no no sul tetto qua da noi proprio qua da noi c'è uno con il cucina poppa che mi segue qua sopra qua 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 con la pistola con la pistola bravo mamma mia cosa ho fatto due a terra a terra grande mamma mia cosa ho fatto c'è ancora oh qua 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 cazzo tuttana no c'è un altro c'è un altro c'è un altro dietro no 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 non andare Mauro bravo stai dietro stai dietro stai dietro stai dietro stai dietro copriti 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 ce n'è uno lì Mauro ce n'è uno lì bravo occhio bravissimo vai che te lo fai vai che te lo fai bravo Mauro bravissimi bro coprite 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 c'è gente qua dietro da arbor cazzo nooo vado ad arbor maledetta ma sono in due in due che vengono ad arbor verso dove siete voi uno sta facendo il giro sotto uno sta facendo il giro sotto perchè lo sento stai dietro dalla finestra stai dietro dalla sinistra la finestra un attimo bravo uno uno mi rianima bravi a terra quello lì bravo uno mi rianima prima che finis il gas bro arrivo no c'è un altro qua dalla finestra raga porco disco qua 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 però un altro madonna quanti sono 38 km siamo arrivati tipo vaffanculo ma lo pesavo fortuna abbiamo i lotti raga dai mauro mauro fai il doppio mauro prendi un 1v un 1v eeeh ce l'hai tu non li a destra e un 1t e mi fai bro ci prendiamo un fantasma 10 10 raga 10 di buono eh ma forta puttana però ah ok l'ho vista adesso scusa sono allo d'alto allo d'alto allo d'alto sta scendendo sta scendendo arrivo è qua sopra aspettati qua sopra ne lo so mauro eccolo qua che scende uno una terra uno che mi rezza uno che mi rezza arrivo 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 vado io vado io vado io vieni qua mauro vieni qua mauro no qua qua è il diritto di arbor arbor raga 1 k oh rianimato mette dammi i soldi i soldi i soldi i soldi dovete mettere insieme i soldi raga vai 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 veloce vai veloce portiamo al lopi dai occhio sopra occhio sopra dove cazzo cazzo stanno venendo da voi stanno salendo da voi hashtag devi solo descerate sono senza armi hashtag c'è la maschera dietro di te dietro di te no arrivo subito raga ragazzi ne avete uno dietro stai stai lì lupa ecco è l'unico è da no cazzo fai l'unico che stai dici non stai guardando non stai guardando ma scusa mauro scusa prenditi i colpi i colpi quelli gentari niente falli 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 scende uuuu 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 fatelo uscire fatelo uscire non tossire uuuu 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 aspetta prima Luca uuuu aspetta uuuu 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 guarda il mio kit amo giocare così amo mamma mia guarda il mio kit guarda il mio kit guarda il mio